Un investimento di 25 milioni di euro, tutti fondi privati, importante passo in avanti per la realizzazione del porto turistico di Otranto, previsti 400 posti per yacht di lusso fino a 40 metri più il 20% di transiti. Nella sala conferenze della regione Puglia in via Gentile è avvenuta la sottoscrizione della concessione demaniale marittima per il porto turistico di Otranto alla società italiana per le condotte d'acqua, alla presenza del sindaco di Otranto Pierpaolo Cariddi. Un sogno che si avvera perché non solo la mia amministrazione ma anche quelle che mi hanno proceduto hanno lavorato tantissimo su questa infrastruttura per vederla approvata e quindi oggi si condotta e ritira la concessione e quindi è un momento particolarmente importante. È una struttura come ha detto lei che non appartiene soltanto ad Otranto, è una struttura che darà risposta ad un comprensorio e siamo sicuri che alzerà la qualità dell'offerta del nostro territorio. Prima della sottoscrizione ufficiale l'introduzione del vicepresidente della giunta regionale pugliese Raffaele Piemontese che ha spiegato la fine di un lungo iter burocratico durato 14 anni. Dopo tanti anni di burocrazie, di conferenze di servizi, di ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, del Libere del Consiglio dei Ministri, tutta una roba che mi auguro l'Italia riesca a lasciarsi alle spalle, oggi siamo in una condizione, una giornata di festa perché da domani la società condotte potrà presentare gli esecutivi e avviare i lavori.